La gara regionale per l'assegnazione del trasporto pubblico locale su gomma a un unico gestore è regolare e ora la regione toscana potrà stipulare il contratto con Autoline e Toscane, la società del gruppo francese Rattepè che si è aggiudicata all'appalto. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con una sentenza che, hanno commentato il presidente Enrico Rossi e l'assessore alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli, sblocca un contenzioso durato anni e respinge gli appelli del consorzio Mobit, l'altro partecipante alla gara che raggruppa gli attuali gestori del TPL. Adesso la sentenza del Consiglio di Stato è definitiva e ci consente di poter stipulare il contratto con la società che già quattro anni fa è la stessa, individuiamo come la società vincitrice della gara e questo è un grande risultato del riformismo di sinistra in Toscana. Noi utilizziamo gli strumenti del mercato per fare servizi migliori per i cittadini. La gara per l'assegnazione a un unico gestore del trasporto pubblico locale su gomma vale più di 4 miliardi di euro tra risorse emesse dalla regione e dagli enti locali e con 190 milioni di investimenti permetterà di rinnovare il 70% del parco bus, rinnovamento già avviato con il contratto ponte del 2018. Abbiamo con il contratto ponte anticipato alcuni di questi effetti per cui abbiamo costituito la comunità tariffaria, negli ultimi due anni sono entrati in servizio 409 mezzi, tutti sono stati dotati del sistema AVM satellitare per un controllo dei chilometri svolti e per dare maggiori informazioni. Certo, ora si creano invece le condizioni per attuare tutto quello che il capitolato di gara prevede. In particolare la fornitura dei 2.100 nuovi mezzi, le paline intelligenti e le nuove tecnologie. Intanto la regione fa appello ai sindaci dei comuni toscani affinché siano in tempi rapidi realizzate le corsie preferenziali.